Un ragazzo giovane che comunque è con noi da tre giorni, quattro giorni, non è così semplice, non conosce quasi nulla di noi, non conosce nulla del calcio italiano, del calcio europeo, quindi ha bisogno di un po' di tempo per conoscere, ha le qualità, ha fatto un bellissimo gol nel secondo tempo, prima del tempo ha sofferto, ha sofferto perché comunque non è facile giocare contro la difesa inglese, anche perché la squadra non l'ha aiutato molto, però nel secondo tempo si è mosso molto meglio, lotta, insomma abbiamo fiducia ma ha bisogno di tempo. Il primo tempo non è che mi dia fastidio qualcosa, nel senso che abbiamo concesso due gol che potevamo evitare, perché comunque il primo gol è una disattazione, noi sapevamo, l'avevamo preparata anche che sui calci spiazzati sono pericolosi, quindi dobbiamo fare un po' più di attenzione nel concedere un gol, perché poi dopo, insomma, è chiaro che hanno giocatori forti, è una squadra forte, non è che quando inizia a giocare si ha il palleggio e ti fanno un gol, è chiaro che va un po' in difficoltà, però il primo tempo non è stato come il secondo, cioè dove noi li abbiamo stradominati senza che loro facessero un tiro in porta, ecco, il primo tempo è stato un po' più equilibrato, chiaramente loro hanno fatto meglio.